Sono le ricette di mare il tema della seconda edizione di EubioChef, il contest tra chef, food blogger e semplici appassionati organizzato dall'ANTE, l'Associazione Nazionale Tumori e Vetrina Toscana per sensibilizzare le persone ad una cucina salutare attraverso ricette eubiotiche, ovvero sane, ma in grado di gratificare anche gli occhi e il palato. Il programma è stato presentato dall'assessore regionale Stefano Cioffo alla presenza dei delegati dell'ANTE, esprimendo particolare apprezzamento per come l'associazione affronta il tema della corretta alimentazione. Lo fa con la grazia e la delicatezza di un'iniziativa che vuole recuperare le buone ricette, la capacità di fare cucina, il racconto delle cucine tradizionali, del mare e dei prodotti locali, ma lo fa cercando di raccontare il valore dell'alimentazione nella cura della salute e a volte anche le alimentazioni che possono accompagnare il decorso di una malattia. Chi vuole partecipare al contest EUBioChef può inviare la propria ricetta all'ANTE entro il prossimo 14 settembre. Il modulo è scaricabile dal sito dell'ANTE Toscana. Le ricette dovranno essere legate al territorio toscano per storia personale e tradizione. Un comitato scientifico interno all'ANTE insieme a un gruppo di esperti di Vetrina Toscana selezioneranno le 10 migliori ricette per la semifinale, uno show cooking in programma a Marina di Massa il 6 ottobre, finalissima fra le prime tre classificate a novembre.